Da pochi mesi sono disponibili in Italia le cosiddette single pill combination, farmaci che uniscono principi attivi che si rivolgono a patologie diverse tra loro, ma spesso concomitanti. Una delle associazioni più interessanti è quella fra amlodipina e rosuvastatina, indicata per i pazienti ipertesi con problemi di ipercolesterolemia. Ne abbiamo parlato con il professor Bruno Trimarco, che abbiamo incontrato a Napoli nel corso di un meeting fra alcuni clinici esperti, incentrato proprio su questi temi. Professor Trimarco, l'uscita di queste cosiddette single pill combination, quale bisogno terapeutico vanno a soddisfare? Per che motivo stanno accogliendo grande interesse nella classe medica? Dobbiamo innanzitutto dire che noi siamo passati da un concetto di ipertensione che aveva valori di pressione particolarmente elevati, per cui ridurli comunque giovava, a livelli molto più bassi, in cui non necessariamente il valore di pressione è l'unico determinante del rischio cardiovascolare del paziente iperteso. Dobbiamo tenere presente che i pazienti ipertesi sono più spesso diabetici, sono più spesso di epidemici. Quindi l'obiettivo della terapia non è soltanto la riduzione di pressione, ma è quella del controllo del rischio cardiovascolare globale. Per questo abbiamo bisogno di presidi terapeutici che possano colpire i vari meccanismi di rischio. Allora avere in un'unica compressa più principi attivi, questo è il concetto della single pill, cioè un'unica pillola con più principi attivi, risponde a questa esigenza del trattamento dell'ipertensione come meccanismo di riduzione del rischio cardiovascolare globale, cioè della probabilità che quel soggetto vada incontro ad eventi cardiovascolari. Professore, una delle single pill più interessanti è quella che associa l'amlodipina alla rosuvastatina. Vorrei da lei un commento di questi due principi attivi. Incominciamo dall'amlodipina. L'amlodipina, come tutti sanno, è un calcio antagonista che però non viene identificato nelle linee guida come farmaco di prima linea. Allora qual è il suo significato di inserirlo in questa associazione? Perché secondo lei è importante? Certamente le linee guida oggi sottolineano la necessità di iniziare con un farmaco che interferisca col sistema renin-angiotensina o con una combinazione tra questi farmaci e farmaci calcio antagonisti. Se noi però guardiamo i dati di utilizzo dei calcio antagonisti, sono farmaci che hanno un grande successo nella pratica clinica e l'amlodipina in particolare può considerarsi il calcio antagonista più utilizzato negli anni di esperienza che sono stati accumulati su questo. Allora come si può conciliare questa apparente discrasia? Tenendo conto che le linee guida innanzitutto sono un suggerimento e non una costrizione. Quindi in linea di massima si deve fare così se è possibile e c'è sempre il grosso problema di ridurre la pressione. E certamente i calcio antagonisti dal punto di vista della riduzione della pressione sono quelli che danno l'effetto più intenso e più immediato, il che è utile per il successo della terapia. In secondo luogo dobbiamo tener conto che il suggerimento di cominciare con due farmaci invece che con uno è legato al fatto che solo il 30% dei pazienti ipertessi risponde alla monoterapia, più hanno bisogno di una terapia con due farmaci, molti hanno bisogno di una terapia con tre o più farmaci. Quindi il calcio antagonista può essere un'ottima aggiunta a chi ha cominciato con, secondo linee guida, con farmaci che bloccano il sistema renina-angiotensina ed eventualmente un diuretico e aggiunge in seconda istanza il calcio antagonista. Passiamo alla rosovastatina. Qui forse la risposta è più facile. La rosovastatina è considerata una delle statine più potenti, forse quella più potente in assoluto. Perché aggiungerla al calcio antagonista? Quanto è forte l'esigenza di ridurre il colesterolo nei pazienti con ipertensione? La rosovastatina ha un pedigree consolidato. Ci sono moltissimi studi che dimostrano non solo la sua capacità di abbassare i livelli di colesterolo LDL, ma anche quello di agire su altri meccanismi di rischio come l'infiammazione. E quindi è evidente che se dobbiamo scegliere una statina per la prevenzione primaria soprattutto, in cui è importante ridurre il colesterolo, ma non è l'unico target, è importante ridurre il rischio cardiovascolare, la rosovastatina per la sua storia sia di efficacia che di tollerabilità rappresenta una delle statine più utili in questo senso. La combinazione con il calcio antagonista offre la possibilità di ridurre il numero di compresse, che spesso è un elemento importante. Quando parliamo di dislipidemia, spesso in prevenzione primaria, se non sempre, parliamo di una patologia asintomatica. La stessa ipertensione arteriosa non sempre dà sintomi, molto spesso il riscontro di valori elevati di pressione è del tutto occasionale in misurazioni familiari, quindi si tratta di soggetti che hanno pochi elementi che li spingano a mantenere la terapia ed avere più compresse da assumere certamente non facilita la persistenza nella terapia. Allora avere questo tipo di combinazione tra due, tra i farmaci che sono certamente più usati nel contrattamento dell'ipertensione e della dislipidemia in un'unica compressa, può essere utile perché io posso ricordarmi di assumere la mia compressa la sera, è più difficile se mi devo ricordare di assumerne più di una.